Allora, quando Unicoppe Firenze ha chiesto alla nostra sezione soci di realizzare nella nostra zona un bosco didattico, abbiamo subito scelto Capriglia. Ci siamo subito destinati in questo posto, perché ci piaceva fare qualcosa con i ragazzi qua su. Quindi noi speriamo che questa cosa sia, come si vede, accettata molto volentieri. Speriamo che nel futuro si possa fare tante altre cose riferite anche all'ambiente come questo.